Vince per 5-0 al rientro in Coppa dei Campioni contro la squadra lussemburghese il Progress di Niederkorn. Questa rete inrovesciata di Juanito è annullata dall'arbitro per il gioco pericoloso, ma si tratta soltanto di una dilazione di pochi minuti, in quanto su cross proprio dello stesso Juanito è Jensen di testa che realizza 1-0 per il Real Madrid. Viene poi la seconda rete su azione avviata da Stili che è proseguita da Pirri e da Wolf, che apre per Juanito, ancora Juanito un po' onnipresente questo giocatore che tocca ancora Wolf argentino che gioca nel Real e poi Juanito conclude di sinistro molto bene per il 2-0. Terza rete originata da un corner battuto da Jensen, un rinvio difettoso della difesa del Progress e del Bosch che riesce a concludere con un tiro che il commentatore televisivo spagnolo definisce suave. Quarto gol, ancora Juanito, questa volta fa tutto da sé, si crea lo spazio e da 12 metri, vedete, batte in diagonale a rete, 4-0. Verrà il quinto gol con un tiro veramente incredibile, quasi dalla linea di fondo, di Wolf. 5-0 per il Real Madrid sul Progress.